Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Una debole perturbazione attraversa velocemente l'Italia, causando una lieve instabilità anche a parte del nostro territorio. Vediamo il dettaglio di sabato 16 marzo. Sul Veneto cielo a tratti nuvoloso ma con ampie schiarite soleggiate. Non sono esclusi dei piovaschi sparsi, soprattutto sui settori montuosi, ma localmente fin verso le pianure limitrofe. Temperature in contenuto aumento, minime tra 6 e 9 gradi, massime tra 15 e 19 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino il cielo sarà coperto con deboli precipitazioni sparse e quota neve a partire dai 1700-1800 metri. Dal pomeriggio parentesi più asciutte e soleggiate. Temperature minime sui 6-9 gradi, massime intorno ai 14-17 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove la nuvolosità sarà variabile con a tratti anche nubi fitte e qualche breve rovescio a carattere sparso. Temperature minime sui 7 gradi, massime sui 19-20 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.